Proteggi i bambini, costruisci il futuro. È lo slogan della Croce Rossa italiana, in prima linea per diffondere fra educatori e genitori le competenze necessarie per effettuare le manovre salvavita in età pediatrica, formando ogni anno in Lombardia 30.000 persone. Le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica saranno al centro del corso, in programma sabato 6 dicembre alle 10, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, aperto gratuitamente a tutta la popolazione e promosso da rota di club Como Baradello, che dal 2006 ha attivato il service, una manovra per la vita, promuovendo eventi sul tema. Ogni anno vengono organizzati diversi incontri presso asili, presso scuole, presso circoli sportivi e presso la Croce Rossa per istruire sia i formatori scolastici che i genitori, i nonni, tutti quei persone che sono a contatto col bambino per essere pronti a intervenire in maniera quantomeno corretta in caso di incidente. Ogni anno in Italia muoiono 50 bambini per l'ostruzione delle vie aeree. Il cibo è il principale responsabile, ma anche i piccoli oggetti, come i pezzi di giocattoli, possono causare soffocamento. In questi casi, insomma, è fondamentale sapere cosa fare, ma anche cosa non fare, assolutamente. Sono due, francamente, le manovre che vengono attuate spesso dai non sanitari nel momento della drammaticità dell'episodio, che è quella di girare il bambino a testa in giù, che peggiorerebbe la situazione, e anche quella di entrare con le dita nel cavo orale. Altrettanto importante, secondo gli esperti, la prevenzione di questi incidenti, per esempio dando ai bambini gli alimenti più adatti per l'età o togliendo dalla loro portata oggetti troppo piccoli. Di tutto questo, insomma, si parlerà sabato al Teatro Sociale di Como. Per partecipare basta iscriversi sul sito cricomo.org.